Com'è possibile che lei dica abbiamo lavorato per risolvere questo problema, poi però il disegno di legge non lo approva, perché lei comunque fa parte dell'opposizione? Quella è pura demagogia, mi consenta di dire, perché come tutti sanno le opposizioni danno il loro contributo nel cercare di inserire le norme e cercare quelle che ci sono di migliorarle. Quindi se qualcuno volesse tentare così di inserire un meccanismo di polemica, purtroppo con me non ci riesce perché parlano i fatti e non le parole. Così il capogruppo del PD all'Ars, Michele Catanzaro, a proposito del Via Libera ai 4,3 milioni di euro nel collegato alla finanziaria regionale per le termine di Sciacca da Cireale, che permetteranno a Sciacca di completare la liquidazione infinita della S.P.A. restituendo tutto il patrimonio alla regione, recuperando anche piccolo e grande hotel di San Calogero. Al momento la ripartizione di queste somme prevede per Sciacca 1 milione e 200 mila euro, la restante parte destinata da Cireale. Ma Catanzaro rassicura... 300 che erano previsti per Cireale, l'1 e 2 per Sciacca, anche se lì bisogna poi fare degli accorgimenti perché Sciacca forse ha bisogno di altre 250, 300 mila euro in più, ma lì sarà l'assessorato stesso anche perché noi abbiamo messo un cavillo che è quello di tornare in commissione bilancio per avere la destinazione delle somme sia per Cireale che per Sciacca. Un provvedimento che permetterà all'assessore Falcone di negoziare con Cassa Depositi e Prestiti una situazione, quella riferita al patrimonio termale di Sciacca, ancora più interessante. Do merito e atto all'assessore Falcone che sta portando affari spenti avanti questa iniziativa di Cassa Depositi e Prestiti che per chi non lo ricordasse è stata proprio una partecipazione nelle ultime due ore di governo musumeci dove noi eravamo dentro la stanza del direttore delle finanze e abbiamo fatto in modo che Sciacca partecipasse con le sue terme a Cassa Depositi e Prestiti. Non più tardi di tre settimane fa c'è stata una iniziativa a Palermo ad un tavolo dove erano presenti tutte le forze politiche presenti, diciamo, in Parlamento regionale e lì abbiamo discusso ed è stato anche lì il frutto per cui è nata anche questa idea di chiudere la fase di liquidazione attraverso un emendamento tra l'opposizione e la maggioranza che è arrivato alla luce qualche giorno fa. Poi con Catazzaro abbiamo parlato dell'emergenza sanità. L'assessore a volo non ha mantenuto gli impegni con l'ospedale di Sciacca. È una vergogna, dice. Abbiamo fatto quella famosa riunione il 2 maggio dove c'erano degli impegni presi parlando della riapertura della Stroke Unit su Sciacca ma ad oggi non vediamo nuovi bandi per avere medici di neurologia che possano rafforzare la possibilità... Questo ricorso ai medici italo-argentini, che tipo di considerazione... Guardi, mi permette davvero, io non voglio entrare nel merito del ricorso ai medici argentini, ai pensionamenti, ai medici pensionati perché qua siamo di fronte davvero alla inefficienza di una politica regionale sulla sanità. Durissimo il parlamentare contro il governo Schifani. Noi arriviamo dal periodo del Covid e ancora oggi ci aspettiamo qual è la reale strategia del governo regionale sulla sanità. Siamo al collasso. Noi abbiamo in provincia di Agrigento 5 strutture dove non più tardi di qualche giorno fa abbiamo visto le dimissioni di un primario del pronto soccorso del San Giovanni di Dio di Agrigento. Noi abbiamo reparti che non hanno più medici. Noi abbiamo medici che stanno continuando ad operare in diversi ospedali della provincia di Agrigento per cercare di mantenere i reparti aperti. Noi abbiamo strutture ospedaliere che stanno crollando. Così poi Catanzaro, sulla situazione della mobilità dei medici tra i reparti doppioni di medicina di Sciacca e Ribera... Un caso limite, due mezze medicine tra Sciacca e Ribera... E non è possibile. Se sono riuniti dovrebbe esserci uno. Non è possibile. Bisogna ridisegnare. Dovremmo metterci attorno ad un tavolo per capire come ridisegnare la sanità in provincia di Agrigento, ma mi permetta di dire, in Sicilia. Io ho detto che il Partito Democratico mette nel suo primo punto nell'agenda politica regionale la sanità, ma lo dovrebbe fare anche questo governo regionale perché non si scherza col diritto alla salute. Infine con il capogruppo del PD a Lars abbiamo parlato della situazione politica Sciacca. C'è nell'opposizione che non ha ancora smaltito il disappunto per la sconfitta alle elezioni, ma bisogna guardare avanti, dice Catanzaro. Ma è chiaro che ancora non si è smaltito il risultato, c'è qualche altro grado di ricorso che deve arrivare, quindi io ritengo che fino a quando non ci sia un punto al tutto, magari ci possono essere attriti o false speranze di prospettiva futura. Io ritengo che invece bisogna trovare il momento del confronto per poter governare una città tra maggioranza e opposizione. Ma è vero che lei si è opposto alla trattativa tra Termine e l'ADC? Guardi, io non mi oppongo a nessuna trattativa, ma lì devo dire che non penso che ci siano state delle trattative.